Abbiamo parlato dei saldi al via con una previsione di una carenza di introiti del 40% a due mesi dalla fine del lockdown. La situazione è critica anche per bar e ristoranti. L'attività non riesce a ripartire, i fatturati nonostante un leggero recupero registrano anche qui perdite del 40% rispetto al periodo pre-covid con effetti pesanti su prospettive e sostenibilità economica delle aziende. L'allarme è del centro studi di FIBE e Confcommercio, la federazione italiana dei pubblici esercizi. E noi ne parliamo con il vicepresidente Aldo Cursano. Benvenuto a Rai News 24. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a lei. Dunque, perché il settore fatica a ripartire? Quali sono le dimensioni della crisi e poi omogenea su tutto il territorio nazionale? Beh, la situazione tocca al cuore in qualche modo uno stile di vita, un modello di convivialità e di socialità che appunto caratterizzava in qualche modo il nostro modo di essere e di vivere. Il problema è che questo ha colpito profondamente in questo e vediamo anche che in particolar modo stanno soffrendo quelle attività che sono legate in qualche modo a una funzione turistica. Quindi i centri storici sono quegli ambiti che proprio stanno pagando profondamente un caro prezzo per la mancanza ormai di residenza, oltre al turismo interno e internazionale. Diciamo che il colpo di grazia è avvenuto un po' con il prolungamento del lavoro a domicilio che ha tolto quella piccola boccata di ossigeno che era legata in qualche modo alla vita lavorativa e quindi dei centri storici che in qualche modo consentivano un minimo di vitalità. Quindi il nostro settore vive di economia, non vive di spirito santo, non vive di politica quindi se noi non cerchiamo di rispalmare quel po' di ricchezza che è rimasta nel mercato interno facendo in modo di far rivivere anche i centri storici che stanno pagando fino a punto del 90% di minore fatturato e beh vuol dire mettere a rischio seriamente un modello ecco perché in momenti così tragici ci aspettiamo un supporto, un'attenzione per poter salvaguardare un modello identitario del nostro paese che oggi rischia davvero di essere messo in ginocchio. Perciò mi pare di capire che sono soprattutto i piccoli centri storici quelli che stanno pagando un prezzo più alto. Anche i grandi, guardi io sono da Firenze e Migreda, ho diverse attività all'interno del centro negli ambiti periferici in qualche modo la residenza mantiene vivo un po' un sistema di vita sociale quindi si va nella pizzeria, non si rinuncia al rito del caffè e quindi lì il calo è contenuto, siamo nel casi meno 30% ma nei centri storici come dicevo grandi e piccoli e ripeto parlo di Firenze, parlo di Roma, parlo della stessa Milano, Venezia siamo proprio a rischio. Molte attività non hanno riaperto, chi ha riaperto per quel grande senso di responsabilità rischia di richiudere e quindi occorre in questa direzione delle scelte shock che ancora, mi dispiace dirlo, non sono avvenute perché i centri storici in qualche modo giorno dopo giorno si stanno spengendo, il turismo sappiamo bene anche con le notizie che voi stessi avete dato continua nella mobilità ad essere fermo al palo e quindi un po' tutti dobbiamo vivere di mercato interno ed occorrono scelte politiche per far rivivere i centri storici e con operazioni in qualche modo straordinarie che ancora, ripeto, non ci sono. Quali sono le indicazioni? Proprio domani, fra l'altro, voi incontrerete il Vice Ministro all'Economia Castelli, che cosa le chiederete? Beh, senza ombra di dubbio scelte immediate ma anche straordinarie. Il nostro è un settore che non vende solo e propone beni e servizi ma ha un ruolo identitario perché condividiamo storia, cultura, unicità del nostro Paese. In qualche modo è l'anima stessa di un'Italia in cui chi viene, viene per vivere come noi. E se muoiono le piccole e medie imprese che identificano una rete anche di socialità, di stile di vita ripeto, noi rischiamo di perdere veramente la memoria storica. Quindi, prima di tutto, interventi shock a sostegno di attività che, legate ai fatturati, hanno bisogno senza ombra di dubbio di fondi perduti, di condividere un progetto di rilancio effettivo, intervenire sui costi di gestione perché i nostri settori erano legati a una produttività, a un valore economico commerciale che è profondamente cambiato. Quindi, una norma che possa regolare in questi contesti le locazioni commerciali, abbattere l'IVA, chiaramente consentirci di mantenere il patrimonio di competenze e professionalità che nella stragrande maggioranza abbiamo in casa, quindi a casa proprio, nel senso più assoluto. Quindi, politiche di integrazione, di reddito, di sostegno al reddito, di integrazione salariale che deve mantenere almeno la speranza. E ripeto, il settore in questo momento è chiamato ad adeguarsi a uno scenario economico profondamente diverso. Non lo possiamo fare con regole e mercato di quando tutto funzionava. Quindi, occorre lavorare seriamente per fare in modo di rinegoziare ogni fonte di costo. Grazie ad Aldo Cursano, che è il vicepresidente del centro studi di FIPE, ConfCommercio, per il suo intervento a Rai News.